Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, nel video di oggi voglio fare un video su un argomento che avevo già trattato in passato, vi lascerò anche quel video qua in descrizione, e voglio parlarvi di come parlare in pubblico. Ovviamente io non sono un insegnante di public speaking, non faccio questo di lavoro, però ho avuto modo nella mia vita di seguire diversi corsi di public speaking che mi hanno aiutato tantissimo. Dovete sapere che io sono sempre, sono tuttora una persona relativamente introversa e fare questi corsi, imparare determinate cose, mi ha insegnato a essere a mio agio quando parlo in pubblico, quando parlo su un palco, ma anche quando parlo davanti alla telecamera. Quindi oggi, nel video di oggi, vorrei darvi alcuni consigli per imparare a parlare in pubblico in modo efficace e senza sembrare agitati, senza aver l'ansia che il nostro discorso finisca. Infatti, parlare in pubblico, che sia su un palco, comunque l'abilità di imparare a comunicare in pubblico è una cosa importantissima per riuscire a creare empatia, per suscitare emozioni, per riuscire a trasmettere la nostra idea e far sì che qualcuno decida di seguirci. Se ci fate caso, tutti i grandi trascinatori, tutti i grandi sognatori, o tutte le persone che hanno ispirato grandi masse di persone, erano dei grandissimi comunicatori. Sapevano perfettamente come parlare, come comunicare le loro idee agli altri. E questa è un'abilità importantissima. E secondo me lo è ancora di più oggi, perché da quando c'è stato l'avvento di internet, del mondo online, e in particolare di piattaforme come ad esempio YouTube, tantissime persone hanno iniziato a promuovere le loro idee, a trasmettere quello che pensavano, a mettersi in gioco davanti a una telecamera. E secondo me è iniziato un processo di alfabetizzazione di questa competenza, ovvero quella di imparare a comunicare. Perché come vedremo è una vera e propria competenza, e secondo me nei prossimi anni sarà una competenza sempre più importante da avere. Perché in un mondo in cui tutti, più o meno, bene o male, ci mettiamo in gioco, dobbiamo imparare a comunicare. Se abbiamo qualcosa da dire, dobbiamo imparare a trasmetterla. Però parlare in pubblico è anche una delle nostre più grandi paure. Hanno fatto tantissimi studi che hanno mostrato come la paura di parlare in pubblico sia una delle paure più diffuse in assoluto nel mondo. E questo perché ogni volta che decidiamo di parlare in pubblico davanti a qualcuno, mettiamo in gioco la nostra reputazione. Quello che gli altri pensano di noi è importantissimo, è ciò che ci tiene all'interno di un gruppo sociale, è ciò che determina la nostra reputazione. E quindi ogni volta che dobbiamo parlare in pubblico, biologicamente, proprio naturalmente, il nostro corpo, il nostro cervello si terrorizza. Perché sa che se qualcosa va storto, o almeno sa la sua paura, è che se qualcosa andasse storto rischieremmo di essere esiliati dal gruppo, di essere criticati, di essere insultati. Insomma, qualunque cosa vi venga in mente. Comunque è quella la chiave reale della paura. Quindi non perdiamo altro tempo e partiamo coi punti di questo video. Ce ne saranno alcuni un po' più, li chiamerei, di mindset, comunque mentali, e altri invece proprio un po' più pratici, che ci daranno qualcosa da poter applicare immediatamente. E il primo punto importante è l'autenticità. Questo può sembrare un punto meno importante, ma una volta che ti ritrovi comunque ad abituarti a parlare in pubblico, ti rendi conto quanto sia facile cercare di costruirsi un personaggio, cercare di essere quello che gli altri si aspettano che noi siamo. E quindi iniziare a costruire la nostra gestualità, il nostro modo di parlare. E questo non è del tutto sbagliato perché è normale che un po' succeda, non siamo mai realmente noi stessi. Però molto spesso si prova a essere troppo finti, in un qualche senso. Mentre la cosa che ho capito nel tempo è che le persone percepiscono l'autenticità, che sia al di là di uno schermo, che sia sopra un palco. E l'autenticità crea molta più empatia. Essere autentico non vuol dire essere completamente se stessi, ci sono tecniche di public speaking che vanno imparate, come la gestualità, di cui parleremo tra poco, come un'altra serie di cose. Vuol dire non provare a essere chi non siamo. Non provare a sforzarsi di ricalcare i tratti di un personaggio che non si rappresenta. Può sembrare un punto da poco, ma vi assicuro che se inizierete a far caso a tanti oratori, vi renderete conto che molto spesso peccano di autenticità. Questo era, diciamo, il punto 1 ed era un po' una sorta di premessa. Ora iniziamo con dei tips un pochino più pratici. Il punto numero 2 è la ricostruzione. Per creare un buon discorso, per riuscire a parlare di qualcosa che realmente interessa a chi ci sta seguendo, a chi ci sta ascoltando, dobbiamo pensare nella nostra testa di ricostruire quello che noi vogliamo trasmettere nella testa di chi ci ascolta. Molto spesso si incappa nell'errore di non chiedersi come quello che stiamo dicendo verrà percepito dagli altri, come verrà immaginato dagli altri. E questo è un grandissimo errore comunicativo, perché poi si finisce magari per saper parlare bene ma non riuscire a comunicare. Il discorso, infatti, il nostro discorso, qualunque cosa diciamo, deve essere pensato come un viaggio tra l'oratore e il pubblico. Deve essere un viaggio in cui l'oratore è la guida del pubblico e deve guidarli all'interno di un processo di scoperta, all'interno del problema di cui vogliamo parlare e portarlo alla soluzione. Comunque la cosa importante è non parlare per se stessi, ma parlare per gli altri. E questa è una delle cose più importanti che ho mai capito, che mi ha aiutato anche a superare la mia paura di parlare in pubblico. Perché una delle mie paure era legata tantissimo al mio ego. Cavolo, chissà cosa penserà la gente di me, chissà come mi vedrà da fuori, chissà se faccio un errore poi se rideranno di me. Quando in realtà ho fatto uno switch di focus da me stesso al pubblico, è stato tutto molto più semplice. Perché ho capito che il mio unico obiettivo era trasmettere qualcosa che mi stava ascoltando. Che chi mi stava ascoltando non era lì per me o per vedersi la mia figurazza, ma era lì perché si aspettava di avere qualcosa da me. E quindi ho iniziato a concentrarmi semplicemente sul dare più valore possibile a chi era venuto ad ascoltare. Il punto numero tre, adesso iniziamo coi punti un po' più pratici, è che meno è meglio. Molto spesso siamo convinti che più cose mettiamo nel pentolone, meglio è. Ed è un errore che anche io facevo. Se andate a vedere i miei primi video, non su questo canale, ma che feci su altri canali, erano video magari di 30 minuti, che ora rivederli dico, ma che bisogno c'era di fare tutto questo? Che bisogno c'era di dire tutte queste cose? Perché effettivamente si cerca sempre di inserire più cose nella busta della spesa. La verità è che per rendere un discorso efficace, che arrivi al punto e che trasmetta qualcosa, bisogna tagliare, bisogna imparare a comunicare solamente l'essenziale. Perché le persone alla fine di un discorso si ricorderanno un concetto principale, fondamentale, e ti ricorderanno per quello. Se invece ci perdiamo in parole, su parole, su parole, alla fine non riusciremo neanche a trasmettere il concetto base. Quindi ricordatevi sempre che meno è meglio. Spesso noi aggiungiamo più cose possibili a un discorso perché vogliamo in qualche modo... È qualcosa che ha sempre a che fare con il nostro ego, vogliamo far vedere che siamo preparati, che siamo intelligenti, e tutta questa serie di cose. La verità è che fare video o discorsi in cui si comunica solo l'essenziale rende il discorso, il video, quello che è molto più efficace. Il punto numero quattro è la struttura di un discorso. Qua entriamo finalmente un po' più nel pratico, perché uno può avere grandissime cose da dire, ma poi non saper strutturare un discorso nel modo corretto. La struttura del discorso è molto importante. E solitamente la struttura, diciamo, più classica di un discorso, dopo ognuno deve adattarla col suo stile, il suo modo di comunicare, però una linea chiara da tenere sempre in mente è questa. Il punto numero uno è l'introduzione e la definizione di quello che verrà trattato. Dobbiamo introdurre già il punto che vogliamo trattare, il concetto chiave a cui vogliamo arrivare. Come in questo video ho detto, vi parlerò di public speaking e di come migliorare nel parlare in pubblico. Il secondo punto, poi, è il contesto, ovvero spiegare perché questo problema, perché questa cosa di cui vi sto parlando è importante. E se vedete, anche in questo video vi ho detto che è importante perché è un'abilità che sarà sempre più richiesta e perché è un'abilità che contraddistingue i grandi leader, i grandi motivatori e via dicendo. Poi ci sono i concetti principali, che è quelli di cui vi sto parlando adesso. A me piace dividerli per punti, perché secondo me rendono molto più chiara l'esposizione e quindi il punto di meno è meglio e via dicendo. Poi il quarto punto, implicazioni pratiche, quindi come quello che vi ho spiegato potrà aiutarvi nel corso della vostra vita, insomma nel corso della vostra carriera lavorativa e quindi magari che parlare in pubblico vi aiuterà a fare video migliori, a comunicare meglio, a creare più empatia con gli altri. E infine, le conclusioni. Ricordatevi sempre che un discorso può essere perfetto, ma se viene chiuso male, rischiamo che si perda tutta la grandezza del nostro discorso. La chiusura, la conclusione è fondamentale. A me ad esempio che piace scrivere, nelle conclusioni dei miei discorsi, mi piace sempre provare a trovare un finale d'effetto, un finale che stimoli l'emotività delle persone. Comunque questa che vi ho appena spiegato è la struttura base di un discorso. Punto numero 5. Creare connessione. Uno dei grandi scopi dell'imparare a parlare in pubblico è quello di riuscire a creare connessione con chi ci segue. E questo si fa in diversi modi. Il metodo, secondo me, più semplice, più efficace con cui si inizia a creare connessione e che tantissime persone sbagliano è lo sguardo. Dobbiamo imparare a guardare negli occhi chi ci parla. Questo è un errore che vedo fatto comunemente sia a persone su un palco, ma sia anche quando sono in giro con dei miei amici o in giro a un tavolo, a un bar con delle persone. Molto spesso noi tendiamo a non guardare le persone negli occhi. Oppure, se siamo in un gruppo di persone e stiamo parlando a tutti, ma guardiamo solamente una persona. Ci fissiamo su una persona e non guardiamo più le altre. In realtà, guardare negli occhi è la prima cosa che catalizza l'attenzione, che fa vedere alle persone che stiamo comunicando con loro. Molto spesso, invece, anche al bar, fateci caso quante persone, quando iniziano un discorso, guardano una sola persona e ignorano tutte le altre. E questo viene fatto per due ragioni. La prima è che guardando solo una persona ci illudiamo di non avere tanti ascoltatori e questo ci aiuta a vincere l'ansia. E la seconda è che solitamente cerchiamo la persona che ci ispira più fiducia, che ci dà più tranquillità e guardiamo quella. Però tutte le altre persone smetteranno di ascoltarci. Fateci caso, se anche adesso io inizio a fare questo video non guardando più la telecamera, ma parlando da un'altra parte, voi vi sentirete improvvisamente esclusi dalla conversazione. Quindi guardare negli occhi è importantissimo. Anche quando siamo su un palco, una delle tecniche che viene insegnato ovviamente non possiamo guardare tutti, ma è di guardare determinati punti della sala. Ci sono gli angoli della sala, le file centrali, muovere continuamente la testa da una parte all'altra. Non guarderemo tutti, ma staremo comunque dando l'impressione di farlo. Oltre a questo, per creare connessione, un'altra cosa importante è mostrare vulnerabilità. Per avvicinare le persone dobbiamo mostrare le nostre vulnerabilità, mostrare le nostre debolezze, mostrare le nostre paure. Questo ci rende umani e questa è la prima cosa che crea veramente empatia. E questo si collega al sesto punto che è lo storytelling. Un altro modo fortissimo per catturare l'attenzione, creare empatia, far sì che le persone ci seguano nel nostro discorso, è lo storytelling. Sono le narrazioni. Ricordatevi sempre che le storie, ho fatto un video sullo storytelling, ve lo lascio qua sopra se lo volete vedere. Le storie fin dall'epoche tribali, sono state quello strumento che permettevano alle persone di sviluppare la propria immaginazione, di imparare a capire gli altri. Per gli esseri umani le storie sono fondamentali. Sono fondamentali per capire le altre persone, per entrare in empatia con le altre persone, per imparare dagli altri. Ricordatevi che noi spesso da una storia, anche una storia di fallimento, da una tragedia, da qualunque cosa, vogliamo imparare una lezione senza doverla vivere. Vogliamo imparare qualcosa dall'esperienza di chi ci sta raccontando una storia. Questo è il grandissimo potere delle storie. Non vi sto adesso a raccontare come si struttura una storia, ho fatto un video in cui parlo solo di questo, quindi ve lo lascio qua sopra nel caso andate a vedere quel video. Comunque la struttura classica della storia, un protagonista che cerca di raggiungere qualcosa, ma inesorabilmente incappa all'interno di determinate difficoltà e poi alla fine riesce a superarle e arrivare alla conclusione, alla realizzazione, alla morale e via dicendo. Comunque andatevi a vedere il mio video sullo storytelling che lo spiego in modo molto più approfondito. E il settimo e ultimo punto è il linguaggio del corpo. Oh, questo è importantissimo ed è una cosa che spesso viene sottovalutata. Ci sono tantissime aree del linguaggio del corpo di cui sarebbe importante parlare. Vi lascio un video che è un TED Talk, probabilmente l'avevo già lasciato da qualche altra parte, che non mi ricordo come si chiama, mi sembra come sembrare intelligenti senza dire nulla. È un TED Talk bellissimo di questo ragazzo che tiene per 20 minuti questo discorso in cui non dice nulla. Dice frasi a caso e sembra non stia mai arrivando da nessuna parte. Prende dati a caso. Ma ha un linguaggio del corpo talmente perfetto che per tutto il tempo non riesci a staccare l'attenzione e sei convinto che ti stia dicendo qualcosa di importante. Ricordatevi che si dice che il 90% o 95% non mi ricordo di quello che noi percepiamo da un discorso lo percepiamo dal linguaggio del corpo. E com'è un buon linguaggio del corpo ci sarebbe da parlarne tantissimo. Bisognerebbe fare dei corsi probabilmente di recitazione o teatro per imparare bene. Però ci sono alcuni punti chiave. Il primo è quello di non muoversi troppo. Tendenzialmente quando siamo in preda all'ansia tendiamo ad agitarci e quindi tendiamo magari a camminare quando siamo su un palco a muovere le gambe. Tutto questo trasmette insicurezza. Se siamo su un palco ad esempio ogni nostro movimento deve essere deciso lento possibilmente a meno che non stiamo raccontando una cosa in cui vogliamo trasmettere enfasi e soprattutto controllato. Ogni nostro movimento deve essere intenzionale. E anche i gesti il modo in cui usiamo le mani il modo in cui usiamo anche lo sguardo deve enfatizzare un particolare concetto. L'altro punto importante sono i silenzi. Questo non è proprio il linguaggio del corpo però insomma ce lo cacciano dentro lo stesso. Il silenzio è un'arma fortissima. Soprattutto per enfatizzare quello che vogliamo dire. Adesso nei video è difficile trasmetterlo perché poi ci metto tutti i tagli e quindi non ci sono mai dei silenzi però molto spesso il silenzio che ci fa tantissima paura perché abbiamo paura del silenzio di sentire le voci vogliamo riempire il silenzio il silenzio dà potere a quello che abbiamo appena detto o a quello che stiamo dicendo. Se vi guardate un discorso di Obama o un discorso di tutti questi grandi leader vedrete che fanno un uso coscienzioso e sempre presente dei silenzi perché danno forza a quello che diciamo. Comunque un punto importante da ricordarci sempre è che dobbiamo essere in controllo del nostro corpo. Molto spesso l'ansia prende il controllo del nostro corpo e quindi tendiamo ad agitarci tendiamo a muoverci velocemente tendiamo a parlare in modo affarnato. Dobbiamo imparare a riprendere il controllo del nostro corpo dobbiamo imparare a trasmettere calma a chi ci ascolta a trasmettere sicurezza in quello che diciamo. Altra cosa importante poi chiudiamo il video è il linguaggio del corpo aperto. A meno che non siamo dei comici dei teatranti e lo facciamo intenzionalmente non dovremo mai tenere delle pose particolarmente chiuse come se stessi messo così con le spalle chiuse o rannicchiato. Come vedete in questo momento non vi sto più trasmettendo sicurezza ma insicurezza. Il linguaggio del corpo aperto tendenzialmente trasmette più sicurezza a chi ci guarda i movimenti lenti i movimenti controllati che prendono lo spazio intorno trasmettono sicurezza. Poi tutto questo va adattato secondo me al nostro stile comunicativo altrimenti diventiamo tutti delle marionette che si muovono uguali. Però diciamo che alcuni punti chiave è imparare a farli nostri e poi adattarli alla nostra persona come siamo fatti secondo me ci aiuteranno tantissimo. E niente per questo video è tutto io spero che vi sia piaciuto spero soprattutto che vi sarà d'aiuto in qualche modo che vi aiuterà a parlare meglio in pubblico o davanti a un video o insomma in qualunque posto dobbiate parlare fatemi come sempre sapere nei commenti se avete avuto esperienza a riguardo o se avete altre domande su questo argomento se volete consigli se avete anche delle critiche qualunque cosa scrivetemelo nei commenti e per questo video è tutto ci vediamo prestissimo in un prossimo video.